Buongiorno a tutti e a tutte. Questa è una delle lezioni climaalteranti ideate dal blog climaalteranti.it e allo scopo di parlare dell'IPCC, il Comitato Intergovernativo dell'ONU sui Cambiamenti Climatici, e di capire come viene maneggiata l'incertezza presente nella scienza del clima nella redazione dei rapporti di questo istituto. Possiamo iniziare dicendo che le informazioni relative all'IPCC sono disponibili sul sito web ipcc.ch. Si trovano tutti i rapporti scientifici di cui dopo parleremo e tantissime altre informazioni sul metodo di lavoro. Possiamo partire dicendo che questo comitato è stato creato per fornire ai decisori politici delle informazioni solide a livello scientifico sul tema del cambiamento climatico, sulle implicazioni, sui rischi potenziali, sulle implicazioni delle scelte politiche, sui rischi che ci sono associati a diversi scenari di azioni, e quindi per fornire quelle informazioni di base per mettere in pratica le azioni di adattamento e di mitigazione al cambiamento climatico. L'IPCC è stato istituito nel 1988 in ambito ONU, dal Dipartimento Ambiente dell'ONU e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il primo concetto chiaro che va capito è che l'IPCC non è un ente di ricerca, non ha suoi laboratori di ricerca, non fa nuova ricerca scientifica. Il suo compito è un altro, ed è quello di valutare l'informazione scientifica già prodotta dalla comunità scientifica e pubblicata nella letteratura scientifica. Quindi l'IPCC fa un lavoro di raccolta, di valutazione, di sintesi delle informazioni disponibili. Quindi cerca di scremare le parti meno interessanti e prendere quelle più di interesse per i decisori politici. Questo lavoro è fondamentale come supporto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che è stata siglata nel 1992 a Rio de Janeiro ed è entrata in vigore. Oggi tutti i paesi del mondo fanno parte di questa convenzione, ed è il quadro in cui vengono decise gli accordi mondiali sul clima. Ebbene, il supporto scientifico a questa convenzione è data proprio dall'IPCC, che interviene durante le sedute anche della Convenzione sul clima. I compiti principali dell'IPCC sono la redazione di rapporti di valutazione, avvengono ogni 6-7 anni, in cui si sintetizza l'informazione scientifica disponibile. Più ci sono alcuni rapporti speciali, su varie tematiche richieste spesso dalla Convenzione sul clima, la Convenzione che chiede di redigere alcuni tipi di rapporti, su argomenti che interessano, in un certo periodo storico. Inoltre, una task force dell'IPCC fornisce le basi metodologiche per permettere ai diversi stati di redigere gli inventari delle emissioni dei gas serra, per fare in modo che ci sia una stima delle emissioni congruente a livello mondiale, per quanto riguarda i gas serra. Come lavora l'IPCC? Il cuore del lavoro dell'IPCC sono tre gruppi di lavoro, working group, chiamati, troverete le abbreviazioni più avanti WG1, WG2, WG3, sta per working group, più la task force sull'inventare delle emissioni. I tre gruppi di lavoro sono il primo sulle basi scientifiche del cambiamento climatico, quindi la scienza del clima, la fenomenologia, la modellistica climatica, quindi la conoscenza, le osservazioni, ma anche le proiezioni per il futuro. Il secondo gruppo di lavoro riguarda gli impatti e l'adattamento al cambiamento climatico, divisi per regioni, divisi per tipologie di impatti. Il terzo gruppo di lavoro riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi le risposte, cosa fare per cercare di contrastare l'aumento delle temperature globali e gli impatti conseguiti. Quindi queste task force hanno come obiettivo principale, quello di redigere questi rapporti e questo viene fatto periodicamente, quindi un lavoro continuo fatto da diversi componenti che si succedono nel tempo, da diversi componenti di questi gruppi di lavoro. La task force invece sviluppa metodologie, le approva e definisce anche come devono essere comunicati i dati delle emissioni fra i diversi paesi del mondo alla Convenzione sul Clima. Anche questo è un lavoro fondamentale che serve per dare congruenza a livello internazionale alla politica sul clima. Quindi l'IPCC non ha suoi scienziati direttamente assunti che fanno ricerca scientifica. La base del lavoro dell'IPCC sono invece le decine di migliaia di scienziati che in tutto il mondo volontariamente contribuiscono a scrivere rapporti scientifici, articoli scientifici sulle riviste più accreditate e poi ci sono alcuni scienziati che volontariamente come autori, collaboratori o revisori redigono questi rapporti di valutazione. Quindi alla fine l'IPCC è una struttura molto snella, c'è un segretariato che sta a Ginevra che ha il compito di coordinare il lavoro dei diversi scienziati, di supervisionare le attività dei diversi gruppi di lavoro e di fornire anche supporto tecnico alla loro attività. La struttura quindi, com'è fatta la struttura dell'IPCC? C'è di fatto, dicevamo appunto, è stato ideato da WMP e UNEP per l'IPCC, c'è una plenaria che riunisce i diversi rappresentanti dei governi perché è in ambito ONU, quindi IPCC sta per Intergovernmental Panel Climate Change, quindi è un comitato intergovernativo e quindi è evidente che se in un ambito ONU i rappresentanti dei governi sono quelli dei diversi Stati, sono quelli che devono decidere in ambito di plenaria l'attività dell'IPCC. Però la plenaria nomina un bureau che è un comitato ristretto, esecutivo, indicato dalla plenaria e vedete di fianco c'è un segretariato che organizza. Poi sotto i gruppi di lavoro, la task force e il lavoro degli autori e dei contributori. Una cosa da dire, i rappresentanti appunto dei diversi Stati nel bureau sono scelti cercando di dare una diversa rappresentanza geografica, di tenere rappresentate tutte le varie aree geografiche, ma in questo bureau vengono di solito, cioè sempre messi appunto, vengono inclusi in questo bureau delle persone con delle grandi competenze scientifiche su questo tema del cambiamento climatico. Vediamo il risultato principale dell'IPCC. Sono questi i rapporti di valutazione pubblicati ogni 6-8 anni. Per adesso ne sono stati pubblicati 5. Il primo rapporto è il First Assessment Report del 1990, poi il secondo rapporto, il terzo nel 2001, quindi il secondo 95, il terzo nel 2001, il quarto nel 2007 e il quinto nel 2013. Per dare un'idea di come sono fatti questi rapporti, qui vedete il volume del primo volume del quarto rapporto sul clima ed è stato pubblicato nel 2007. Vedete un rapporto piuttosto pesante, sono alla fine questo rapporto, se guardiamo le pagine, 1984 pagine ed è un rapporto appunto che è disponibile integralmente come pdf sul sito dell'IPCC, ma poi può essere acquistato, alcune copie vengono stampate e possono essere acquistate per chi preferisce una lettura cartacea. Questo è metà del primo volume del quinto rapporto dell'IPCC, appunto del Working Group 1. È la metà perché siccome era troppo pesante l'ho tagliato a metà e me lo sono un po' rilegato, altrimenti era troppo pesante da legge, solo ti spaccava il polso, portarlo in giro nella borsa. Quindi vedete che sono rapporti molto corposi e sono rapporti che contengono veramente una quantità di informazione scientifica veramente rilevante. Dopo vedremo magari alcuni, apriremo alcuni di questi file. Intanto vediamo cosa sono gli special report. Sono dei rapporti mirati su alcuni temi che sono stati fatti ad esempio sugli scenari di emissione, sul carbon capture storage, ad esempio nel 2005. Recentemente gli ultimi tre rapporti speciali che sono stati pubblicati sono lo special report su un grado e mezzo di riscaldamento globale, lo special report sul cambiamento climatico e il suolo e il rapporto speciale sui ghiacci e l'oceano. Questi sono rapporti più agili, generalmente raggiungono 700-800 pagine e poi tutti questi rapporti, sia quelli speciali e quelli di valutazione, hanno poi dei sommari per i decisori politici e dei rapporti di sintesi. Vi faccio vedere ad esempio questo è il sommario precisori politici del quinto rapporto di valutazione. C'è anche, anche questo si scarica sul web, ma poi una versione stampata e delegata è distribuita dall'IPCC e può essere richiesta anche se è mandato una mail al segretariato. Sul sito web trovate un indirizzo email, viene spedita, nel particolare per le biblioteche universitarie anche, viene spedita gratuitamente una copia del sommario per i decisori politici. Questo è il sommario per i decisori politici del rapporto speciale, l'ultimo che è stato pubblicato sull'oceano e la criosfera nel clima che cambia. Tutti questi rapporti di valutazione, quindi non gli rapporti speciali, ma gli assessment report, hanno poi una synthesis report, quindi un rapporto di sintesi in cui viene sintetizzata la conoscenza scientifica dei tre volumi, dei tre gruppi di lavoro. E questo ad esempio è lo special synthesis report del rapporto del 2001. Vediamo, ad esempio, un dettaglio sull'ultimo rapporto oggi disponibile, che è quello del quinto rapporto sul clima, con i tre volumi dei tre gruppi di lavoro. Di fatto il sommario per i decisori politici aveva circa 28 pagine, se non ricordo male, e il synthesis report del quinto rapporto sul clima ha circa 100 pagine. La versione stampata si acquistava intorno ai 90 euro per volume, adesso mi sembra che i prezzi siano diminuiti, ma è ancora disponibile sul web. Qui vedete la copertina del sommario per i decisori politici del special report su un grado e mezzo di riscaldamento globale. Per fare un esempio, questo rapporto è stato proprio chiesto durante i giorni dell'Accordo di Parigi, in cui si doveva discutere l'obiettivo da mettere nell'Accordo di Parigi, si è discusso molto se mettere come obiettivo dell'Accordo di Parigi un grado e mezzo o due gradi, come massimo incremento delle temperature a cui tendere. Davanti anche all'incertezza su quale numero scegliere, è stato commissionato durante la conferenza sul clima della COP25 di Parigi, è stato commissionato pubblicato all'IPCC un rapporto speciale che spiegasse quali sono le differenze tra un grado e mezzo e due gradi in termini di diversi impatti, ma anche come difficoltà nel raggiungere questo obiettivo di contenimento delle temperature, i costi. L'IPCC ha accettato questo incarico da parte dell'UNFCC, non potrei farlo fare altrimenti naturalmente, e è stato pubblicato questo rapporto nell'ottobre del 2018. Quindi da dicembre 2015, ottobre 2018, di fatto ci sono voluti quasi tre anni per pubblicare questo rapporto. D'altronde il lavoro è un lavoro complesso perché richiede di passare la segna alla letteratura scientifica, organizzarla e come vedremo fare anche dei cicli di revisione. Per fare un esempio, in questo rapporto, questo rapporto è stato redatto di fatto da 91 autori principali, 91 autori che hanno scritto diverse parti importanti dei capitoli. Questi autori si sono poi appoggiati ad altri autori che hanno dati dei contributi più mirati su singole parti, e nel complesso, in queste, non ricordo se erano 600-700 pagine di questo special report su un grado e mezzo, sono stati citati 6.000 articoli scientifici, già pubblicati sulla letteratura scientifica. E sono stati ricevuti durante i cicli di revisione di questo rapporto 42.000 commenti e proposti di cambiamenti di revisione da parte di altri scienziati ed altri esperti. Questa è la pagina del rapporto speciale dell'IPCC sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia. È l'ultimo rapporto speciale che è stato pubblicato nel settembre del 2019, mentre il prossimo rapporto sarà pubblicato tra il 2021 e il 2022 e sarà ancora composto il sesto rapporto sul clima, un rapporto di valutazione, dai tre volumi, dai tre gruppi di lavoro e poi dal rapporto di sintesi. Ma andiamo a vedere sul sito web dell'IPCC come sono disponibili queste informazioni. Possiamo vedere, questa è la pagina centrale dell'IPCC, scorriamo e possiamo trovare le informazioni su cos'è l'IPCC e subito dopo si trovano, è proprio possibile scaricare i rapporti. Qui vedete l'ultimo rapporto appunto sull'oceano e la criosfera, qui ci sono informazioni sul rapporto, sul sesto rapporto sul clima, questo è un rapporto speciale su un grado e mezzo dell'escaldamento globale, queste sono le linee guida per la ridazione e l'inventare delle emissioni e così via, ci sono un rapporto speciale sulla terra, qui vedete i vari volumi del sesto rapporto sul clima e qua si possono poi trovare le informazioni di tutti gli altri rapporti dell'IPCC. Quindi possiamo trovare, ecco, quelli prossimi, ecco questa qua, è la pagina che contiene tutto quello che è stato pubblicato dall'IPCC. Anche i rapporti precedenti, quindi il quinto rapporto sul clima, i rapporti speciali sulle energie rinnovabili e quindi una miniera di informazioni, una grandissima quantità di informazioni che sono disponibili. Ad esempio possiamo prendere uno di questi rapporti, prendiamo ad esempio il rapporto speciale sull'oceano e la criosfera nel clima che cambia, andiamo sulla pagina e vediamo come su questa pagina possiamo facilmente scaricare e sommare i precisori politici e poi accedere anche al rapporto tecnico, ho dimenticato di dire che ogni volume è corredato anche in un rapporto tecnico, generalmente intorno al centinaio di pagine per ognuno dei gruppi di lavoro e poi sono disponibili tutti i vari capitoli, questo è il primo capitolo, il secondo capitolo e vari capitoli. Questi capitoli possono facilmente essere scaricati e quindi si può vedere, ad esempio apriamo il terzo capitolo, ogni capitolo ha, vedete, gli autori principali, il lead author, quello che ha coordinato, i due che hanno coordinato gli autori principali, gli autori principali e poi tutti quelli che hanno contribuito, tutti gli scienziati che hanno contribuito a questo rapporto. Poi ci sono i nomi di chi ha gestito le fasi di revisione del rapporto, ricordo che il rapporto è stato aperto al resto della comunità scientifica per le revisioni e quindi su questo abbiamo poi, si può dire che con questo tipo di sintesi abbiamo una qualità scientifica assolutamente molto elevata. E qua vedete, questo è il rapporto, in tutto dura quindi 118 pagine e ci c'è un indice iniziale, c'è anche un executive summary di ogni capitolo, quindi c'è proprio veramente il massimo sforzo per cercare di rendere fruibili queste informazioni. Naturalmente sono informazioni scientifiche. Come dicevo c'è un grande apparato di bibliografia, andiamo in fondo e si può vedere, vedete come ci sono tantissime pagine di riferimenti bibliografici su cui si basa la scienza che viene esposta in questo rapporto. Quindi ci sono in sostanza circa 30 pagine, più di 30 pagine di riferimenti bibliografici. Quindi inizia questa pagina, appunto, la pagina 277 del rapporto e dura ancora una trentina di pagine. Quindi capite la vastità della conoscenza scientifica che è disponibile, che è sintetizzata in questi rapporti dell'IPCC. E così possiamo avere a disposizione informazioni anche, ad esempio, sul sesto rapporto del clima. Se andiamo, appunto, a esplorare il rapporto che sarà pubblicato, naturalmente non è ancora disponibile, però possiamo avere un'informazione su quello che è l'indice di questo rapporto che si sta ridigendo. Quindi è tutto molto trasparente. Qui vedete le informazioni su quelli che sono la timeline, la scaletta, l'agenda di redazione di questo rapporto, che sarà quindi appunto redatto, attualmente redatto e partito nel 2017 con la call for author, quindi con la richiesta ai licenziati di dare la loro disponibilità a scrivere questo rapporto e naturalmente continuerà, e qui vedete l'indice che è già stato definito del primo volume, del sesto rapporto sul clima dell'IPCC. Quindi è una caratteristica proprio dell'IPCC che è tutto molto trasparente. Vedete qua ancora la timeline che è spiegata in modo più visivamente più interessante. Vedete come è partito tanti anni fa ormai e nel 2020 siamo in una fase oggi, sicuramente rallentata da questa emergenza coronavirus, di fatto di expert review di quello che è già stato scritto e vedete poi si arriverà intorno ad aprile del 2021 con l'approvazione di questo rapporto e quindi sarà il primo che uscirà dai tre gruppi di lavoro. Torniamo alla nostra presentazione e vediamo un altro, di dire appunto un po' più precisamente come funziona la redazione di questi rapporti. Di fatto c'è una, il bureau una volta che viene letto definisce l'indice e anche gli obiettivi che deve avere questo rapporto, ossia quali sono le informazioni che servono ai decisori politici, cos'è che deve contenere questo rapporto. Naturalmente è un lavoro fatto anche questo da scienziati che si interfacciano con la politica ma di fatto le informazioni sono conosciute e quindi anche la capacità di organizzarle arriva dalla parte della comunità degli scienziati. C'è, viene appunto approvato un outline, quindi un indice, vengono nominati gli esperti, poi c'è una prima bozza del rapporto che va a una review informale e poi vedete ci sono altre bozze del rapporto che vengono sottoposte a revisioni di esperti. Come funziona? I diversi scienziati del mondo possono proporsi, mandando, scrivendo il loro curriculum in un forms e proponendosi per fare i revisori di queste bozze dei rapporti. Quindi io l'ho fatto per il terzo gruppo di lavoro, quella sulla mitigazione del cambiamento climatico, di fatto se si viene accettati si riceve in bozza il rapporto, la bozza del rapporto che è stato scritto, si è l'obbligo di non divulgare questa bozza e si devono poi mandare i suggerimenti o le richieste di modifica e suggerimenti di miglioramenti sui singoli capitoli, indicando la pagina e il paragrafo. E alla fine ci sono dei review editor che gestiscono tutte queste revisioni arrivate e con gli autori cercano di recepirle. E tutto è molto trasparente perché poi vengono pubblicati i rapporti e vengono poi pubblicati anche dei file in cui si vedono tutte le revisioni che sono arrivate, le richieste di revisioni arrivate e le motivazioni con cui queste revisioni sono state accettate o sono state respite. Naturalmente in modo molto sintetico perché per certe revisioni si dovrebbe magari discutere per pagine a pagine. È un rapporto di sintesi che però fa vedere chi ha proposto delle modifiche e se sono state parzialmente o in tutto accorte. L'ultima versione del rapporto va incontro anche ad una government review, una revisione da parte dei rappresentanti dei governi. E su questo in passato è stata fatta un po' di polemica. C'è chi ha detto ecco, alla fine sono i governi che scrivono il rapporto dell'IPCC. E questo a mio parere denota anche una scarsa considerazione per gli scienziati che lavorano anni e difficilmente poi accetterebbero di farsi di fatto riscrivere rapporti dai governi. Quello che succede è che si chiede ai governi di dire se le informazioni sono spiegate adeguatamente, se sono magari scritte in modo incerto. Scritta in modo sbagliato non vuol dire che l'informazione scientifica è sbagliata, vuol dire che è scritta male o se non è comprensibile può dare adito a dubbi. Il decisore politico può avere il dubbio su cosa i scienziati intendevano dire. Dopo questa fase di review il rapporto viene formalmente approvato dalla plenaria. Quindi ricordiamoci questo. Di fatto il rapporto ha l'approvazione da parte dei governi di tutto il mondo che aderiscono, che danno vita appunto alla plenaria dell'IPCC. Quindi non ci sono degli scienziati autonomi che pubblicano qualcosa senza che nessuno li guarda. A volte trovate scritto che sono i modelli dell'IPCC o gli scienziati dell'IPCC che sostengono delle cose. Di fatto quello che viene pubblicato è una sintesi di quello che già si conosceva in ambito scientifico, ma scritta in modo informativo per la politica. Pagliato, andiamo avanti a vedere questa presentazione. Una parola ancora su questa peer review, la revisione dei pari. La revisione dei pari è un processo che esiste già, che è la base del processo scientifico di scrittura e di divulgazione anche delle acquisizioni scientifiche. Tutte le riviste scientifiche prestigiose hanno un sistema di review. Chi propone un articolo scientifico, prima di pubblicarlo, lo deve sottomettere a degli esperti che hanno pari competenza, quindi da qui la peer review, e questi esperti possono bocciare l'articolo dicendo che le conclusioni non sono supportate o possono chiedere integrazioni, possono chiedere degli miglioramenti. E' tanto più rigoroso il processo di revisione, tanto più la rivista è seria. Naturalmente è un processo fatto da esseri umani e quindi è normale, non deve stupire che ci siano anche degli articoli che magari a volte vengono pubblicati e contengono delle cose che potevano essere fermate secondo altri scienziati o magari anche degli errori. E' successo perché ovviamente in decine di migliaia di articoli è perfettamente comprensibile come possa sfuggire da queste maglie della revisione qualche informazione non corretta. Ma di fatto va detto che dopo tanti anni di ricerca scientifica i grandi errori vengono sostanzialmente evitati o vengono corretti velocemente. A volte capita che articoli pubblicati che poi si vede che non sono adeguati vengono successivamente ritirati. Ricordiamoci che alcune riviste hanno sistemi di peer review molto deboli. Ad esempio se prendo una rivista di astronomi russi, un articolo su climate change probabilmente non sarà soggetto ad una revisione adeguata da parte dei climatologi proprio perché quella rivista è animata da esperti di altro e quindi bisogna anche poi stare attenti quando si valutano informazioni della letteratura scientifica a considerare dove è stata pubblicata questa informazione. Spesso gli atti dei convegni, soprattutto per i convegni non internazionali o a volte anche di convegni internazionali di basso livello, quello che si pubblica negli atti dei convegni e non viene effettivamente sottoposto ad una vera revisione. Quindi il processo di revisione è forse una cosa che caratterizza e contraddistingue il lavoro dell'IPCC rispetto a quello di altri organismi tecnici che ci sono a livello internazionale. Una cosa da aggiungere è poi come viene effettuata la valutazione e la comunicazione dell'incertezza nei rapporti dell'IPCC e questo è un tema importante perché noi sappiamo che la scienza del clima è inevitabilmente caratterizzata da incertezze, come tutte le scienze complesse e quindi è importante che si riesca a gestire questa incertezza. Ebbene, nei volumi dell'IPCC ci sono diversi approcci con cui viene gestita questa incertezza e viene comunicata. A volte c'è un approccio qualitativo in cui di fatto non si fa altro che cercare di esprimere in modo qualitativo quanto le informazioni disponibili sono numerose, quindi qual è l'entità dell'evidenza scientifica, quanti dati, quante teorie supportano una certa tesi e poi qual è il grado di accordo fra queste diverse teorie o diversi dati sullo stesso parametro osservativo. Poi c'è l'approccio semi-quantitativo che cerca di dare anche un giudizio sulla correttezza dei dati in termini quantitativi. L'approccio quantitativo che si utilizza soprattutto per il primo gruppo di lavoro è un approccio che cerca anche di definire in termini numerici probabilistici, ad esempio la probabilità che un evento sia accorso nel passato occorrerà in futuro, quindi facendo riferimento a delle griglie numeriche di probabilità. Quindi l'approccio quantitativo ad esempio si può trovare nel rapporto dell'IPCC e questa è la griglia che è stata definita dall'IPCC e che viene comunicata agli autori e gli si invita a essere congruenti nel utilizzare questa griglia quando si danno le informazioni. Quindi se si scrive che è una cosa virtualmente certa si ritiene che c'è una probabilità maggiore del 99% che è avvenuto nel passato o che avverrà in futuro. Il molto probabile significa che la probabilità è maggiore del 90% e così via. Se si dice che è estremamente improbabile si intende che c'è una piccola probabilità almeno del 5% che in certo fatto possa avvenire o che sia avvenuto nel passato. Questo è un esempio di come nei diversi volumi pubblicati nel passato sono stati utilizzati questi termini. Prendiamo ad esempio uno dei temi più importanti dei rapporti dell'IPCC, ossia come si indica quanto le attività umane sono responsabili delle variazioni climatiche. Nel 2001 si era scritto la maggior parte del riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni è probabilmente dovuta all'aumento osservato della concentrazione di gas ad effetto serra. Nel 2001 questa era la frase che era stata scritta nel Assessment Report 3, quindi nel terzo rapporto di valutazione. Nel quarto rapporto di valutazione la frase è diventata la maggior parte degli aumenti della media di temperature globali dalla metà del XX secolo è molto probabilmente dovuta all'aumento osservato della concentrazione di gas ad effetto serra causato all'attività umana. Nel quinto rapporto di valutazione si è detto, vedete che sono frasi scritte diversamente proprio perché gli autori sono diversi. L'influenza umana è stata rilevata nel riscaldamento dell'atmosfera degli oceani, nella variazione del ciclo globale dell'acqua, nella copertura di neve e del ghiaccio, nel inalzamento a livello globale del livello medio del mare e nei cambiamenti di alcuni estremi climatici. L'evidenza dell'influenza umana è cresciuta dal quarto rapporto di valutazione. è estremamente probabile che l'influenza umana sia stata la causa dominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo. Punto, estremamente probabile, come abbiamo visto, è un livello di probabilità maggiore del 95%, vedremo se il prossimo rapporto si scriverà virtualmente, certo. Sembra probabile, visto questa progressione. Vediamo un esempio invece di approccio semi-quantitativo, che sta a indicare un grado di confidenza su un giudizio di esperti, un giudizio di esperti, appunto del giudizio di esperti sulla correttezza di un modello o un'affermazione che viene fatta nel rapporto, se si dice con elevata confidenza si intende, ci sono 8 possibilità su 10 che quell'affermazione sia corretta, molto elevata sia in 9 molto 10, confidenza molto bassa, una soltanto su 10. Questi sono alcuni esempi, purtroppo in inglese, mi sono dimenticato, nel quinto rapporto di valutazione, vedete appunto, è nell'emisfero nord, da 83 al 2010, appunto, nell'emisfero nord, i 30 anni del 1933 al 2012 sono probabilmente stati il 30 anni più caldo degli ultimi 1.400 anni, quindi confidenza media, probabilmente media confidenza. Capite come c'è un tentativo proprio di non mascherare l'incertezza, ma vi dirla in modo molto chiaro, facendo capire anche agli scienziati stessi, dove magari si potrebbe anche studiare di più per migliorare l'informazione, da dare decisori politici. Vediamo un altro esempio, l'escaldamento appunto, l'escaldamento dell'oceano ha dominato l'incremento dell'accumulo dell'energia stoccata nel sistema climatico e appunto questo, l'accumulo di energia negli oceani, negli oceani va più del 90% dell'energia accumulata dal 1971 al 2010, con alta confidenza. È virtualmente certo che la parte superficiale dell'oceano, i primi 700 metri, si è scaldata dal 1971 al 2010. Vedete poi quindi come si arriva a dire virtualmente certo. E così via ci sono poi altri tipi di affermazioni. Nell'approccio qualitativo invece si cerca di mettere insieme due tipi di informazioni. Da una parte il livello di accordo su un particolare risultato, dall'altra parte quant'è la quantità di evidenza che supporta quella affermazione. Quindi noi possiamo avere un alto accordo fra pochi dati disponibili o viceversa potremmo avere un basso accordo fra magari molti dati. Il massimo appunto della precisione, il minimo dell'incertezza qualitativa è quando abbiamo tanti dati che dicono sostanzialmente la stessa cosa. E qui vedete ad esempio un rapporto, un esempio di frase tratto dal quarto rapporto sul clima, dove si dice che diversi tipi di studi con diverse metodologie hanno indicato che c'è un sostanziale potenziale economico per la mitigazione delle emissioni di gas sera nei prossimi decenni. Questo potenziale potrebbe bilanciare la crescita delle emissioni globali indicate alle proiezioni e ridurre le emissioni al di sotto dei livelli attuali. Ebbene si diceva che c'è un alto accordo e molta evidenza a supporto di questa affermazione che è possibile ridurre le emissioni. Quindi questo è un grafico che ci mostra quanto detto e quindi ci può aiutare a capire quando leggiamo il rapporto dell'IPCC qual è il livello di evidenza o il livello di incertezza che sono associate le diverse informazioni. Questa attenzione sembra trascurabile ma insisto perché molto spesso il che critica l'IPCC lo fa dicendo che l'IPCC non considera le incertezze. In realtà è proprio questo il lavoro principale che fa e lo fa in un modo molto rigoroso. Qui vedete ad esempio una tabella presente nel quarto rapporto sul clima, Walking Group 1, la tabella del sommario per i gestori politici SPM2, in cui vedete si è fatto anche un confronto come una stessa affermazione che i giorni e notte fredde sono diminuite come numero e appunto il riscaldamento c'è stato sopra la maggior parte delle terre emerse, molto probabile che il trend che sia avvenuto verso la fine del XX secolo, è probabile un contributo osservato umano al trend osservato e la probabilità al futuro virtualmente è certo. Su questo potete sbizzarvi a trovare i rapporti dell'IPCC come vengono utilizzati questi termini e cerchi anche come l'IPCC stessi cerca anche di capire come è cambiato il livello di confidenza nel corso dei vari rapporti dell'IPCC o anche come è diverso per informazioni che riguardano il passato, il presente, la responsabilità umana o il futuro. Nonostante questo grande lavoro di revisione, di cura nella stesura, nonostante sono coinvolti i più grandi scienziati, gli errori possono capitare. Chi ha mai scritto una tesi di lavoro e di dottorato pubblicato ad un articolo scientifico non si sorprenderà certo se alla fine di un grande lavoro si scopre che c'è un errore, sempre perché, come si diceva, siamo esseri umani. Ebbene, quello che è successo è che nel, e ha fatto scalpore, per questo ne parlo, nel quarto rapporto sul clima è successo che si è trovato un errore. Attenzione, questo ha fatto molto scalpore questo errore, ma se si va a vedere era nel R4, vedete la scritta qua in basso, questa sigla vuol dire R4, Assessment Report 4, quindi quattro rapporti di votazione, walking gruppo 2, sull'impatto in altamento, capitolo 10, alla pagina 492, c'era effettivamente una frase che era sbagliata. Una frase che, guardate, citarà anche un rapporto del WWF, e questo già era anomalo, perché quello che succede di solito è che si utilizza come fonte del rapporto IPCC una fonte di letteratura peer-reviewed, mentre i rapporti del WWF possono essere stati revisionati da qualche esperto, ma non sono revisioni serie come quelle che avvengono le liste scientifiche. Ebbene, in questa frase si diceva appunto che i ghiacciai dell'Himalaya si stavano riducendo più velocemente che in altre parti del mondo, e se il trend continuava, la probabilità di una scomparsa per l'anno 2035, forse prima, era molto alta. E questo di fatto, se si poi leggeva invece, se si leggeva il rapporto sulla criosfera del primo gruppo di lavoro, in cui si parlava della scienza, della glaciologia, questa affermazione non era presente, anche nelle proiezioni degli altri capitoli di WWF non era presente. In questo rapporto, il secondo, che guardava gli impatti sulla regione Himalayana, invece, era stata messa un'informazione che non era stata ben agganciata a quella detta del primo gruppo di lavoro. Quindi questo è stato effettivamente un errore. Naturalmente questo errore è stato identificato dagli stessi scienziati, è successo che a un convegno uno scienziato ha detto, così anche abbastanza en passant, che c'era tra l'altro questo errore nel rapporto. Questo è servito per montare una campagna di stampa e anche di disinformazione per cercare di denigrare l'IPCC. Qui potete vedere ad esempio un rapporto da cui si è arrivati a dire che l'Himalaya non si scioglie più, ossia che non c'era in corso una fusione dei ghiacci dell'Himalaya, quando invece il rapporto dell'IPCC aveva sbagliato scrivendo che, parlando di una fusione troppo elevata dei ghiacci dell'Himalaya, ma non era una discussione che i ghiacci nell'Himalaya, come in tutti gli altri ghiacciai del mondo, si stessero ritirando. Quindi vedete poi come magari anche un piccolo errore in una materia delicata come quella dell'IPCC, come quella del cambiamento climatico, può dare origine a delle grandi polemiche, anche delle campagne. Questo articolo sono specialmente pieno di contumeli verso gli scienziati, verso l'IPCC. Qui vedete addirittura un articolo sul Corriere della Sera che si spinge a dire le bugie, i trucchi del clima, come se ci fossero anche la volontà di truccare i rapporti. Quindi si mette in discussione come se ci fossero male a fede degli scienziati. Si chiede di cacciare il Nobel Paciauri, perché Nobel? Perché l'IPCC nel 2007 ha vinto il premio Nobel per la pace, insieme ad Al Gore, per l'attività che ha fatto e scientifica, che sappiamo che il tema del cambiamento climatico è legato anche indirettamente al tema della pace, della stabilità dei vari paesi. Ebbene, qua l'idea era quella della colpa di fatto del Paciauri, che era il coordinatore della plenaria, di fatto era il rappresentante dell'IPCC, ma non è Paciauri chi ha scritto i rapporti dell'IPCC e Paciauri non ha neppure tenuto a fare la revisione scientifica dei rapporti. Quindi, di fatto, si può dire che chi ha scritto questo articolo non conosceva come funziona l'IPCC per chiedere, per un errore fra l'altro, di fare le dimissioni del coordinatore di questo comitato. Poi, naturalmente, esperti di diritto costituzionale che si mettono a dire che l'Himalaya va bene perché hanno sentito magari da altre fonti questa tesi. Questo è un articolo che è stato pubblicato in quegli stessi anni in cui si vedeva molto bene come i dati sui ghiacciai, questi sono i ghiacciai dell'Himalaya, il bilancio di massa, la quantità di ghiaccio che si perde annualmente ed è come sono tutti sotto lo zero, cioè c'è una grandissima evidenza scientifica della fusione dei ghiacci dell'Himalaya e dei pericoli che ci sono. Su questo suggerisco anche un'altra lezione climalterante fatta dal professor Bocchiola o anche di guardare sul tag Himalaya i posti che sono stati fatti dal blog. Questa è la conclusione. Spero di avervi dato una panoramica sufficientemente esauriente di come funziona l'IPCC e di come sono costruiti i loro rapporti. vi invito adesso a leggere, ad ascoltare, a leggere il blog ed ascoltare altre lezioni climalteranti. Arrivederci.